La gioia viene da lontano Sgorga dal cuore di Dio Poi un secondo elemento Dopo aver visto che questa gioia Che viene da lontano È annunciata dai profeti Mi piacerebbe sottolineare Che la gioia nel Nuovo Testamento È anzitutto al femminile È il giubilo della madre Allora qui c'è anche Chiara Non c'è solo Francesco Poi vorrei dire che la gioia del Vangelo È sovversiva È proprio sovversiva E quindi far vedere la gioia Che Gesù e Francesco danzano insieme È la danzano insieme Perché è la gioia ad esempio Di incontrare un Dio bambino La gioia del preseppe È la gioia dell'abbraccio del lebroso È la gioia delle ferite luminose del risorto E quindi insomma ne avrò tanto da dire Tu hai editato con il Messaggero di Sant'Antonio Con le edizioni del Messaggero di Sant'Antonio Alcuni volumi di carattere biblico In particolare dedicati a Giovanni Diciamo in particolare Perché sono gli ultimi due Ne avevo fatto uno anche sulla lettera di Pietro Ma hai fatto bene a ricordarmelo Perché proprio il Gesù di Giovanni Dice vi lascio la gioia Non solo la pace Vi do la mia gioia E allora sarà anche un elemento Per dire ma come è la gioia di Gesù Quali sono le caratteristiche Di questa gioia di Gesù E anche di questo faremo alcune sottolineature Perché Francesco ha ben capito La gioia di Gesù Assai diversa da quella del mondo Un'ultima domanda è questa Tu sei biblista Sei esperta di questo Ma sei anche donna di comunicazione Ecco qual è il servizio che Una religiosa per esempio O un religioso Può dare al mondo della comunicazione Beh anzitutto direi Proprio come Francesco Vivere quello che si dice Perché se no non funziona Cioè la gioia non deve essere Propaganda per l'estero La gioia deve venire da dentro La gioia è quella di un incontro La gioia è quella di un innamorato Hai mai visto tu un innamorato triste? E sarebbe proprio impensabile Quindi noi dovremmo far vedere Che stare con Dio Amare Dio È proprio bello È la felicità Perché chi può dare più gioia Di nostro Signore? Grazie a tutti Grazie a tutti